148 la teoria della reincarnazione a chi appartiene commento il concetto di reincarnazione appartiene sia alla tradizione orientale sia a quello occidentale alcuni padri della chiesa cristiana come clemente alessandrino e origine parlarono della possibilità dell'esistenza di molte vite per la crescita dell'anima sant'agostino in le confessioni dice la mia infanzia ha forse seguito un'altra mia età morta prima di essa forse quella che ho vissuto nel ventre di mia madre e ancora prima di quella vita o dio della mia gioia io esistevo già in qualche altro luogo o altro corpo che ho vissuto nel ventre di mia madre e ancora prima di questa forse la mia madre e ancora prima di questa forse Grazie a tutti.